Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del Tg6. In apertura iniziamo dai dati aggiornati dell'emergenza sanitaria nella nostra regione. Sono 23 i nuovi positivi nelle ultime ore e sono di età compresa fra i 6 mesi e i 91 anni. Numeri assoluti bassi, così come basso complice la giornata di festività del Capodanno e il numero dei tamponi analizzati, 217, con un tasso però di positività dei campioni che è pari al 10,6%. Resta costante purtroppo il numero dei deceduti, 10 nelle ultime ore ed uno che risale ai giorni scorsi ma comunicato soltanto oggi dalle ASL. Aumentano sempre a buon numero i guariti, più 134 per un totale di 23.266. Scendono gli attualmente positivi, meno 122 a quota 11.251. Continua invece il trend di risalita del numero dei ricoverati, 443 in area medica, più 8 di cui 37 in terapia intensiva. Qui c'è una dimissione, mentre 10.771 sono in isolamento domiciliare, in crescita di 129 unità. Dunque questi i numeri dell'emergenza coronavirus aggiornati. Ad oggi Abruzzo che dovrebbe diventare zona gialla dal 7 oppure dal 9 di gennaio, a seconda di come poi verrà attuato il decreto del Ministero della Salute. Questo ha annunciato anche il Presidente Marsilio, che ha smentito nel pomeriggio alcune voci circolate rispetto al fatto che l'Abruzzo potesse invece restare zona arancione. Anche perché, ha detto Marsilio, c'è stata la conferma del Ministro Speranza il 31 dicembre. Chiaramente bisognerà aspettare la cabina di regia ministeriale, che dovrebbe svolgersi il 5 martedì, che chiaramente terrà conto anche dei dati di questa settimana. Il tasso di positività in Abruzzo è gradualmente aumentato e l'abbiamo ascoltato anche dal bollettino aggiornato. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dentino. La zona gialla è in bilico. La Befana, oltre alle feste, porterà via anche il decreto natale e dal 7 gennaio si tornerà al sistema dell'Italia a colori. L'Abruzzo dovrebbe tornare, dopo due mesi di rigide regole, a livello più basso di restrizioni. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha anche già ricevuto conferma in via telefonica dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Dall'ultima cabina di regia ministeriale, che ha analizzato i dati dal 21 al 27 dicembre, è emerso che l'indice RT di trasmissione del contagio in Abruzzo è a 0,65, il più basso di tutta Italia, mentre la media nazionale è poco oltre lo 0,9. Una notizia incoraggiante, conseguente alle restrizioni che nell'ultimo periodo nella nostra Regione sono state le più severe della penisola. Buone notizie anche riguardo i dati del sistema sanitario. Il tasso di saturazione delle terapie intensive è sceso dal 23 al 20%, così come quello delle aree mediche, dal 37 al 31%. Le preoccupazioni però sorgono analizzando i numeri del bollettino quotidiano, secondo cui negli ultimi giorni il tasso di positività è nuovamente schizzato. Dal 3,36% del 29 dicembre, giorno in cui i positivi sono stati 47 su 1.398 tamponi, i numeri sono poi gradualmente peggiorati. Il 30 ai positivi sono stati 278 su 4.052 test, per un tasso di positività del 6,86. L'ultimo dell'anno invece si è superata a quota 10%, con 456 positivi su 4.311 tamponi. E ieri, primo gennaio, si è sfiorato il 12%, 410 positivi su 3.452 tamponi processati. Si è però ancora al di sotto della media nazionale, che si attesta intorno al 14%. Per la settimana prossima è prevista una nuova cabina di regia ministeriale, in vista della riclassificazione di giovedì 7. Non è stato ancora comunicato il giorno, ma è probabile che questa si svolga al 5. In quell'occasione bisognerà quindi tenere conto anche dei dati dell'ultima settimana, per poter determinare il colore delle regioni. Al momento, in base ai 21 parametri su cui si impone il colore della zona, l'Abruzzo non è assolutamente in una situazione più allarmante di quella che riguarda altre regioni italiane. Tutto però è ancora in discussione. Se nei prossimi giorni dovesse continuare il trend di vertiginoso aumento del tasso di positività e i reparti ospedalieri dovessero tornare ad affollarsi, Speranza potrebbe fare dietrofront, non concedendo più la zona gialla. Insomma, al momento l'Abruzzo sembra raccogliere i frutti della prolungata zona rossa e ad oggi rientra ancora nello scenario di minore rischio. Ma la situazione, qui come nel resto d'Italia, è ancora instabile. Ed oggi sono state vaccinate 549 persone nel primo giorno di avvio ufficiale della campagna vaccinale anti-covid che sta interessando per il momento gli ospedali della nostra regione. Questa mattina alle 12.30 sono iniziate le vaccinazioni all'ospedale civile di Pescara. I primi a sottoporsi sono stati i medici e infermieri che lavorano nel nosocomio del capoluogo adriatico. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Direttore, quella di oggi è una grande giornata. È partita la vaccinazione anti-covid dell'ospedale di Pescara. alle nostre spalle ci sono sanitari che si stanno vaccinando. Si vede la luce in fondo al tunnel, in caso di dire? Vediamo la luce in fondo al tunnel. Mi raccomando, bisogna farla tutti. Dobbiamo farla tutti. È fondamentale perché è l'unico modo per sconfingere questa pandemia. Partirete per gradi. Oggi 65 vaccinazioni. Domani 75. L'obiettivo è di arrivare a 300 al giorno. L'obiettivo è esattamente quello. Lunedì arriveremo a 300 al giorno. Se ci riusciamo, anche domani. Oggi sicuramente 60 perché è il primo giorno, vogliamo capire tutti i percorsi, le procedure. È importante fare questo test. Domani, se ci riusciamo, facciamo numeri più alti, sempre in sicurezza. Lunedì 300 al giorno, sempre in sicurezza. Quello che voglio dire è questo. Mi raccomando, i comportamenti, questo grande sforzo che stiamo facendo, che stanno facendo gli operatori sanitari, amministrativi, tecnici, io non conto nulla, io arrivo soltanto alla fine. Quello che vedo è questo grande impegno da parte di tutti. Le nostre forze sono queste, stiamo facendo di tutto, però quello che chiedo è che tutti gli altri, da me in poi, mi raccomando comportamenti esemplari. Personale sanitario al momento verrà vaccinato? Sì, cominciamo come da direttive nazionali e regionali, cominciamo col personale sanitario, in particolare con i nostri operatori. Lo estenderemo poi alle case di cura convenzionate e poi all'RSA a seguire. Entro quanto tempo si riuscirà a vaccinare tutto il personale sanitario, diciamo, che necessita proprio del vaccino? Penso che in una settimana circa, almeno il nostro personale dovrebbe essere a posto. Tenete presente che, anche se vacciniamo gli operatori che abbiamo detto, siamo poche migliaia di persone, dobbiamo vaccinare almeno i due terzi della popolazione di questa provincia. Per fare questo ci vorranno mesi e mesi, quindi i comportamenti valgono sempre, sono fondamentali perché il Covid venga sconfitto. Siamo ancora nell'ambito dell'emergenza sanitaria, perché il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti sciistici al 18 di gennaio. A renderlo noto è proprio il Ministero. Nei giorni scorsi le regioni e le province avevano chiesto, attraverso una lettera del presidente della conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico. Proseguiamo, restiamo a Pescara, resterà operativo anche nella prima parte del nuovo anno il Centro Operativo Comunale che dalla sua apertura ha rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza nel periodo della pandemia. Assessore, prosegue nonostante il periodo festivo l'attività del COC del Centro Operativo Comunale di Pescara, un lavoro che prosegue, un lavoro intenso per dare l'assistenza alla cittadinanza, soprattutto in questo momento particolare per quelle persone che sono sole, persone anziane, che vivono un particolare disagio proprio nei giorni di festa. Sì, l'attività del COC che va avanti dal 13 di novembre fino a oggi sarà mantenuta aperta perché è importante, rileviamo che è divenuto un punto di riferimento per la cittadinanza anche per quanto riguarda semplici informazioni, visto il cambio dei colori delle zone del nostro territorio rappresenta anche un punto di soccorso a volte anche alimentare, perché ci sono anche famiglie che chiedono pacchi alimentari, allora la nostra convenzione col Banco Alimentare che fornisce anche prodotti alimentari da poter somministrare anche a quelle famiglie che tradizionalmente non sono state soccorse dai servizi sociali, perché questa pandemia ha prodotto tanta nuova povertà e molta gente non riesce in qualche modo a soddisfare le esigenze della propria famiglia come avveniva prima. Questo strumento in aggiunta a quelli che sono i servizi del COC rappresenta un altro elemento in cui l'amministrazione ha voluto puntare perché ci sono tante persone che con dignità ed in silenzio hanno difficoltà ad andare avanti, allora vogliamo anche soccorrere costoro attraverso questo servizio oppure semplicemente fare in modo che vengano riforniti di medicinali oppure qualsiasi servizio serva per la cittadinanza. Questo mirato ad un solo obiettivo di far sentire i cittadini pescaresi mai da soli, l'amministrazione è al loro fianco in questo momento molto molto difficile per tutta la città e non solo per la città. Avete effettuato centinaia di interventi in questo mese e mezzo, continuerete a lavorare anche in questo inizio del 2021? Sì, io approfitto per ringraziare, se mi consentite, tutti gli operatori del COC, del Comune, dei servizi sociali ma anche e soprattutto i volontari della protezione civile che quotidianamente coordinati dal COC intervengono fattivamente sul territorio per soddisfare le varie esigenze che ci sono. Quindi sicuramente un plauso va a tutta l'organizzazione del COC e siamo sempre presenti, saremo chiusi solamente il primo giorni festivi per poi continuare normalmente la nostra attività negli orari che sono stati stabiliti. Ed ora una notizia di cronaca, è stato trovato morto questa mattina nel garage della sua abitazione a Casarsa, in provincia di Pordenone, un caporal maggiore scelto dei bersaglieri di 38 anni. A renderlo noto è il quotidiano messaggero Veneto, notizia che è stata poi ripresa dall'ANSA, precisando che il militare avrebbe dovuto presentarsi in caserma per l'obbligo di firma poiché agli arresti domiciliari per le accuse di violenza sessuale, un episodio tentato ed uno consumato e sequestro di persona. Il militare originario di Prata d'Ansidonia in provincia dell'Aquila era stato denunciato ai carabinieri da due donne, una di 44, l'altra di 60 anni di professione badanti, ma come riporta sempre il messaggero Veneto aveva sempre respinto le accuse. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi in merito alla sua morte. Adesso ci occupiamo di politica, voltiamo pagina dunque. Dal decreto rilancio arriverà un aiuto alla ripresa economica del Paese e della Regione Abruzzo. Tra i relatori dello strumento normativo anche il senatore Luciano D'Alfonso. A disposizione ci sono 44 miliardi. Vediamo il servizio. Il presidente della Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il senatore Luciano D'Alfonso, ha illustrato questa mattina la stampa, lo schema di decreto ministeriale di adozione del regolamento recante requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del patrimonio destinato sul quale il senatore D'Alfonso ha svolto un ruolo di relatore in commissione che, dando attuazione all'articolo 27 del DL 3420, prevede la costituzione nell'ambito di cassa, deposito e prestiti di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni a sostegno e rilancio del sistema economico produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Mi dispiacerebbe se gli strumenti di patrimonio destinato, 44 miliardi di Euro, andassero ad animare e alimentare solo le imprese della Lombardia, del Veneto, del Piemonte o delle grandi regioni del Sud, magari scavallando e scavalcando le regioni di mezzo come l'Abruzzo in ragione del fatto che magari c'è un po' più di timidezza nell'utilizzare le risorse dell'ordinamento. Noi dobbiamo fare in modo che anche qui si verifichi, perché lo spirito di patrimonio destinato è di fare in modo che l'impresa, che è sicura di recuperare redditività, moltitudine nei suoi destinatari circa i prodotti e i servizi che realizza, l'impresa deve essere aiutata a riprendere il volo, a fare innovazione, ricerca, a rifare investimenti, a riguardare con interesse anche l'esportazione. Purtroppo la pandemia ha rappresentato un blocco, ha cancellato le moltitudini negli incontri con le imprese. Noi dobbiamo fare in modo che ricominci a girare la ruota dell'economia, anche sottoscrivendo debito buono, perché patrimonio destinato si alimenta di debito buono. È un investimento che nel bilancio dello Stato è retto con il debito, ma il debito è buono se genera la ripresa dell'economia. E la ricostituzione domani, attraverso una corretta fiscalità da impresa, da economia, ricostituisce anche il bilancio dello Stato. C'è una raccomandazione scritta che noi facciamo al Governo affinché le imprese partecipate da patrimonio destinato valorizzino le quote di genere, realizzino una parità di opportunità anche per quanto riguarda i generi, sia per i consigli di amministrazione che per la crescita delle responsabilità dirigenziali e anche per l'innalzamento verso l'alto e in termini equitativi rispetto uomo e donna devono avere una retribuzione corrispondente. L'Unione Europea ha stanziato 24 miliardi per il potenziamento delle linee ferroviarie con lo scopo di facilitare lo spostamento di uomini e mezzi militari tra gli Stati dell'Unione. Nel progetto è inclusa anche la linea L'Aquila-Sulmona-Pescara, il servizio di Giuseppe Lintino. La spinta all'ammodernamento delle infrastrutture è data dagli scopi militari. L'Unione Europea con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha stanziato oltre 24 miliardi di euro per il Military Mobility Initiative, un piano per ottimizzare lo spostamento delle truppe tra gli Stati dell'Unione tramite il potenziamento delle linee ferroviarie. Attualmente infatti lo spostamento di mezzi militari e soldati, che sia via terra, via cielo, via mare, è rallentato dalle procedure burocratiche necessarie a varcare le frontiere. Una parte dei 24 miliardi sarà avvolta al potenziamento della tratta L'Aquila-Sulmona-Pescara. Potenziare questa tratta non significa solo adeguarla agli scopi militari, commenta il vicepresidente vicario del Consiglio regionale abruzzese Roberto Sant'Angelo, ma permetterebbe all'Abruzzo di portare a termine un lavoro di riammodernamento che i cittadini aspettano da molto tempo. Da un lato infatti, continua Sant'Angelo, potremmo allinearci con i nostri alleati europei in termini di difesa, mentre dall'altro potremmo soddisfare le esigenze di trasporto civile. Obiettivo insomma quello di ottenere ripercussioni positive anche riguardo scopi commerciali ed economici, mentre ad oggi il trasporto merci su ferro non è vantaggioso. Per i tecnici il completamento dei lavori per la tratta complessiva, Pescara-Sulmona-L'Aquila-Rieti-Terni, richiederà all'incirca dieci anni. I confini tra le diverse nazioni diventeranno quindi più labili per merci militari, così da facilitare la logistica se questi dovessero spostarsi in caso di necessità, come per disastri naturali o anche per il trasporto vaccini in caso di una nuova pandemia, oppure in preparazione delle prossime guerre. Cambiamo argomento. Nel corso della ventesima edizione del premio Troisi a San Giorgio a Cremano è stata presentata una pellicola con John Lynch, attore di origini molisane e con parenti anche in Abruzzo, che ha interpretato il mattatore partenopeo scomparso nel 1994. Il servizio. Eccole le prime immagini di John Lynch nei panni di Massimo Troisi. Sono state mostrate in anteprima mondiale nel corso della ventesima edizione del premio Troisi a San Giorgio a Cremano. L'attore originario di Trivento, paese del quale tra l'altro cittadino onorario, è protagonista di Da domani mi alzo tardi, ispirato al libro di Anna Pavignano. Ho fatto il più dritto l'ultima notte. Mi dimentico che stavo facendo un film e poi... ...mi morto. È solo un dritto. Il film con le musiche inedite di Pino Daniele è firmato dal nipote di Troisi Stefano, Veneruso, che così lo ha presentato durante la serata. Questo non è un film, un film dove tutti magari si aspettano di un'imitazione, uno scimmiottamento e io erano anni che cercavo di raccontare qualcosa dai ricordi di famiglia, dai ricordi personali, anche dalle cose che ci ha raccontato nella sua splendida, straordinaria carriera. E leggendo questo romanzo è nato tutto in maniera assolutamente spontanea e così proprio naturale, perché quando ho letto il romanzo, appunto Da domani mi alzo tardi, sono rimasto folgorato dalla bellezza e dall'intensità, perché ho scoperto un massimo che proprio non conoscevo ovviamente, perché è il massimo, diciamo, veramente nei sentimenti più forti e nella storia che ci ha raccontato appunto Anna Pavignano, che l'ha conosciuto chiaramente profondamente, per cui è un massimo riconoscibile, ma che io che l'ho vissuto come un fratello maggiore non conoscevo, quindi mi immagino che non conosca nessuno. Per cui quello che ho voluto evitare è di fare un'imitazione, anche perché sarebbe stata una cosa brutta, veramente brutta, soprattutto di quella fascia d'età, di un uomo maturo, perché si racconta un Troisi, Anna ha immaginato che Massimo non sia morto, che abbia superato brillantemente, questo mi è piaciuto da morire, l'operazione che purtroppo non ha fatto in tempo a fare, e che quindi è un cinquantenne che si è ritirato per un periodo e che sceglie di tornare a fare cinema. Ecco, questa è la premessa, per cui ci siamo immersi in questa immaginazione con un attore straordinario, che molti forse ricorderanno per Sliding Doors, per George Best, ha fatto i film straordinari. La presentazione delle prime immagini della pellicola che uscirà nei prossimi mesi è stata uno dei momenti più emozionanti del premio Troisi a San Giorgio a Cremano, evento che quest'anno non si è arreso al Covid e si sta tenendo regolarmente in quattro serate, seppure in diretta streaming, il direttore artistico del premio Gino Riviecio. Questa è un'edizione difficile che, devo dire, è stata oggetta di una lunga riflessione e quando il sindaco Giorgio mi convocò nel suo ufficio per propormela, io all'inizio ho rimasto un po' scettico, subito dopo ho dovuto dargli ragione perché l'alternativa sarebbe stata non farla, non farla significava interrompere un certo percorso che è stato fatto in questi anni e soprattutto quindi interrompere una continuità e soprattutto far mancare ai San Giorgesi e non solo ai San Giorgesi un momento di evasione, un momento di leggerezza di fronte a un anno così difficile. Siamo arrivati allo sport, partiamo dalla serie B, dunque dal calcio, dal lunedì scatta la sessione invernale di calcio mercato che resterà aperta fino alle 20 del primo di febbraio. In casa Pescara c'è già fermento per dare a Breda un primo rinforzo in attacco. Il nome caldo è quello di Adriano Montalto del Bari, ma proprio dalla Puglia rimbalza una voce clamorosa che vuole la società bianco-rossa interessata. Cristian Galano, vediamo il servizio di Andrea Costantini. Una voce che arriva da Bari alimenta le ore che precedono l'apertura del calcio mercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Cristian Galano sarebbe nel mirino della società di De Laurentiis impegnata nel girone C, quello del Teramo. Nella rincorsa al primo posto occupato dalla Ternana. Per lui sarebbe la terza parentesi in terra barese. Una voce che si insinua all'interno di una operazione che potrebbe portare, con il tragitto opposto, Adriano Montalto da Bari a Pescara. Davvero strano il destino. Lo scorso luglio nel corso di Venezia-Pescara, proprio Montalto, in forza ai Lagunari, con una piccola sceneggiata a conseguenza di un gesto di stizia di Galano, propiziò la prima espulsione in carriera del Robben delle Puglie. Tre giornate di squalifica nel momento decisivo del campionato e Galano tornò a disposizione solo per il match col Chievo dell'ultima giornata. A distanza di pochi mesi il destino dei due attaccanti potrebbe reincrociarsi. Montalto finora ha trovato poco spazio, dieci presenze, solo tre da titolare e quattro gol segnati e la difficoltà di giocare nel 3-4-3 di Auteri, essendo il ruolo di centravanti a pannaggio di un intoccabile come Antenucci. Galano, capocannoniere biancazzurro dello scorso campionato, ha avuto alti e bassi in questo primo scorcio di torneo, dai problemi con Oddo ai primi gol con la gestione Breda e una ulteriore flessione, come tutta la squadra, nelle ultime due partite. Dal club biancazzurro fanno sapere che per Galano al momento non è giunta alcuna offerta. Il Pescara proverà ad affondare per Montalto senza sacrificare il Robben delle Puglie. La sensazione dell'esterno è che la cessione di Galano farebbe molto, troppo rumore per una squadra che proprio in quel reparto va decisamente rafforzata. In attesa di capire se ci saranno ulteriori sviluppi, il Pescara continua a lavorare a fari spenti per quello che potrebbe essere l'obiettivo principale di questa sessione, Pietro Iemmello. L'attaccante di proprietà del Benevento gioca in prestito alla Spalmas, nella seconda divisione spagnola, l'equivalente della nostra Serie B. Le cose non vanno bene, dieci presenze e zero gol. Iemmello vorrebbe cambiare aria e il presidente Sebastiani, sfruttando i buoni uffici col patron degli stregoni, Vigorito, ci sta provando. Importante comunque sarà fare presto, Montalto potrebbe essere la soluzione immediata. Per Iemmello servirà più tempo, per un mercato nel quale la società sarà fortemente impegnata anche sul fronte delle uscite. Ventola, Elisalde, Di Grazia, Riccardi, Capone sono tra i papabili per cessioni o per rientri da prestiti. E intanto la squadra continua a preparare il match di lunedì alle ore 18 con la Reggiana. Breda dovrà fare a meno di Bocchetti, Maestro e Capone, oltre ai lungodegenti. Probabile convocazione per Masciangelo. Direzione di gara affidata, meraviglia di Pistoia. Vediamo il servizio. L'ultima volta che si sono incrociate Reggiana e Pescara lottavano per la promozione in Serie B. Erano i play-off del 2010. Il Pescara di Eusebio Di Francesco e Bellameglio nel doppio confronto sugli emiliani guidati da Loris Dominissini. 0-0 in quello che allora era lo stadio Giglio. 2-0 per i biancazzurri nel retour match con le reti di Ganci e Zizzeri. Il Delfino sarebbe poi stato promosso in cadetteria nella doppia finale col Verona. Sempre in quella stagione il Pescara guidato da Cucureddu era stato battuto a Reggio per 2-1. Nei 13 precedenti nel campionato il Pescara tre volte ha violato Reggio Emilia. Due volte il Mirabello nel 42 e nel 92 col Pescara di Galeone Vincente. 1-2 con le reti di Bivi e Pagano. Nel febbraio 99 l'unica affermazione al Giglio. 0-2 con doppietta di Palumbo. 5 pareggi e 5 le sconfitte. Reggiana-Pescara ora è uno scontro diretto in chiave salvezza tra due squadre che non stanno granché bene e sono separate da due punti. I biancazzurri dopo il buon impatto di Breda sono stati riportati con i piedi per terra dalle prove con Entella e Cosenza. La Reggiana dopo il blitz di Cosenza ha conquistato un solo punto in 5 partite. Proprio per questo la partita è molto delicata. È l'ultimo match prima della sosta e della possibilità di inserire innesti di calciomercato. Per entrambe chiudere questo ciclo con una sconfitta sarebbe un pesante contraccolpo. Seduta mattutina per il Pescara al centrovestina con il tecnico Breda che oltre ai lungodegenti Drudia, Senzio e Del Favero dovrà rinunciare in difesa a Bocchetti a seguito dell'infortunio muscolare riportato col Cosenza e a Maestro squalificato. Out anche Capone potrebbe tornare tra i convocati Masciangelo che partirebbe comunque dalla panchina. Davanti a Fiorillo il trio di difesa sarà composto da Balzano, Gutt e Scognamiglio, Belanova e Ierosinski Quinti. Novità fra gli interni con Memushai che collezionerà anche egli come Fiorillo pochi giorni fa la sua duecentesima presenza in maglia bianca azzurra ci saranno Busellato e Valdifiori. In avanti come sempre molto ruota sulla presenza o meno dal primo minuto di Setter. In caso il colombiano parta dalla panchina toccherà Bocic. Sul fronte opposto il tecnico Alvini si affiderà il 3-5-2. Tra i pali ci sarà Venturi al posto dello squalificato Cerofolini. In avanti ci sarà da scegliere il partner di Carbo, Mazzocchi o l'avanzamento di Radrezza. Direzione di gara affidata a Francesco Meraviglia di Pistoia al primo anno in Can A-B e dunque non ha mai diretto in precedenza il Pescara. Sarà la sua prima. Cinque direzioni con la Reggiana, tre vittorie, tutte in Serie C. Quest'anno un pari 1-1 con la Cremonese e un K.O. Ascoli-Reggiana 2-1. Lasciamo la Serie B. Adesso scendiamo in Serie C. Doppia seduta di allenamento oggi per il Teramo che sabato prossimo ricomincia il campionato con l'impegno interno contro l'Avellino in un vero e proprio scontro diretto. Ma con la riapertura delle liste lunedì anche il mercato diventa tema centrale in casa bianco-rossa. Jacopo Forcella. A una settimana esatta dal ritorno in campo e con la sconfitta di Bisceglio ormai ampiamente archiviata per il Teramo da lunedì in poi si apre una settimana importante. Non solo sul fronte campionato ma anche per quello che riguarda il mercato. Perché sabato prossimo i bianco-rossi se la vedranno in anticipo contro l'Avellino di Piero Braglia una di quelle squadre che oltre a battagliare col diavolo in zona playoff nel mercato estivo aveva in più di una circostanza provato ad esempio a soffiare domenico mungo alla corte di Massimo Paci. In quel caso non c'era stato l'accordo troppo alte secondo la società Irpina le richieste del Teramo per lasciar partire il giocatore. Che col contratto in scadenza 2022 potrebbe però cercare di giocarsi le proprie chance in bianco-rosso anche considerando l'annata finora non proprio positiva di Bombaggi. I bianco-verdi che hanno tesserato Ianes e che faranno a meno del laterale Mancino-Burgio hanno sondato il terreno per Brucini che Braglia ha avuto a Cosenza proprio come Mungo ma che potrebbe invece tornare nel girone A all'Alessandria. No anche per Del Pinto il centrocampista bruzzese ex L'Aquila ora in forza al Benevento avrebbe rifiutato la destinazione bianco-verde. Non se la sente di scendere in Serie C avendo richieste anche in B e preferirebbe accettare quantomeno una destinazione in caletteria. Sul fronte Teramo invece sono le sempre più probabili cessioni di Santore e di Achite entrambi destinazioni Sassuolo a tenere banco perché l'intenzione specie per il centrocampista è quello di provare a trattenerlo fino alla fine della stagione anche per non compromettere la stabilità di un reparto, quello nevralgico che fino a questo momento nella composizione a due con Arrigoni ha dato ampie garanzie sia in fase di possesso che di recupero. Chi partirà certamente invece è Luca Di Matteo che non ha trovato alcuno spazio in questa stagione. Da valutare anche la permanenza del laterale destro Di Achite che ha fatto vedere grandi cose anche e soprattutto da centrale difensivo. È evidente che con l'addio di Piacentini a gennaio o a costo zero alla fine dell'annata Paci non può fare a meno anche di Di Achite a meno che non arrivi un rinforzo importante in terza linea. Sassuolo che ha un diritto di recompra già fissato anche su Pietro Cianci, ora a Potenza ma che è appetito anche da molte squadre di Lega Pro. In entrata ancora nessuna novità. D'altronde Iachini mercoledì mattina è stato chiaro con l'attuale situazione economica senza uscita importante e difficile, se non impossibile, pensare di fare mercato. Intanto però la squadra ha ripreso a lavorare in vista dell'impegno proprio con l'Avellino di sabato prossimo alle 17.30. Oggi prevista una doppia seduta di allenamento mentre domani giorno di riposo prima di iniziare una settimana quasi tipo. Perché quello del Bonoli sia uno scontro diretto in piena regola? Vincerlo significherebbe non solo iniziare l'anno col piede giusto ma anche cancellare le ultime uscite del 2020 che hanno portato un bottino di punti troppo misero per non essere risucchiati da una concorrenza molto ampia. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito. On Demand ci sono come sempre i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it, sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi e soprattutto di un buon 2021. a 21.